Un legame indissolubile nel Grande Fratello. La storia di Giuseppe e Anita. Cari spettatori, benvenuti su Daily Gossip Scoop. Oggi ci immergeremo nel cuore del Grande Fratello per esplorare un connubio speciale che va al di là delle dinamiche di gioco. Parliamo di Giuseppe e Anita, due concorrenti che hanno trascorso momenti intensi all'interno della casa, plasmando un'amicizia unica. Il Grande Fratello non è solo intrattenimento, è una vera e propria esperienza di vita. Giuseppe, durante la festa chic, apre il suo cuore a Rosie, rivelando quanto sia profondo il suo legame con Anita. Ogni giorno, dentro e fuori dalla casa, cresce in lui un sentimento così potente da farlo impazzire quando non vede l'amica. Anita, dal canto suo, riconosce il valore di questa amicizia e la fortuna di aver trovato Giuseppe. Tuttavia, le distanze geografiche gettano un'ombra di incertezza su questo rapporto unico. Anita, più razionale, riflette attentamente sui legami, mentre Giuseppe la vede come parte integrante di se stesso. Questo contrasto aggiunge un tocco di tensione e realismo alla loro storia, dando uno sguardo autentico agli ostacoli che lontananza e amicizia possono presentare. La nostra amata Rosie, nel frattempo, si confronta con le dinamiche complesse della casa. La paura di perdere un amico, si estende anche a Anita e Giuseppe. Una riflessione sincera sulle amicizie formatesi e dissolve nell'ambiente carico di emozioni del grande fratello. Giuseppe rassicura Rosie, affermando che tutto si risolverà. Ma l'incertezza rimane, portando una malinconia sottile ma tangibile. La festa chic, il luogo in cui si sono rivelati tanti sentimenti, continua nel suo sfavillante splendore, mentre Giuseppe e Anita navigano tra la gioia e l'ansia, confusi dal mix di emozioni in cui sono immersi. In questo video, cercheremo di analizzare e comprendere a fondo la storia di Giuseppe e Anita, esplorando il significato di un'amicizia che supera ogni distanza. Se siete pronti nelle emozioni del grande fratello, continuate a seguirci. Ricordate di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche e lasciare un like se siete curiosi di scoprire come si evolverà questa avvincente storia. Vi aspettiamo nel prossimo video.